ciao amiche bentrovate quest'oggi vi voglio fare vedere come pulisco il mio piano cottura scusate il mio lavello in acciaio con questo prodotto qua allora questo è un prodotto che mi è stato inviato da questa azienda preciso che non ricevo nessun compenso per mostrare il prodotto in funzione mostro il prodotto in funzione così vedete anche voi come funziona se funziona bene se non funziona bene se vi trovate meglio con altri prodotti io l'ho provato e posso dire di trovarmi ci bene ve lo voglio far vedere in funzione allora questo pulisce sgrassa luci dalle superfici in acciaio inox e alluminio in alluminio opacizzate e rovinate dall'uso se ne consiglia quindi di agitarlo prima dell'uso di prendere una spugna io utilizzo questo straccetto qua inumidita quindi la inumidisco leggermente versarne una piccola piccolissima quantità io verso una quantità così e andarla a passare sulle nostre superfici sfregandole fino a formare una patina una patina scura allora io ovviamente qui non è più passandolo non è più ne metto ancora un pochino non è più bianco come lo vedete qua perché a forza di passare vedete da bianco questo passi si scurisce si scurisce dopodiché questo e faccio tutto quanto il lavello dopodiché per farò vedere anche il risultato finale ovviamente dice di risciacquare perché va risciacquato io vorrei che voi notaste già con questa passata come il lavello comunque sia e lucido non non presenta non presenta sì adesso io inizierò a risciacquare sciacquo bene la pezzetta e sciacquo con acqua non serve sciacquare moltissimo perché come potete vedere è super super lucido anche così ora io magari tiro via il prodotto in eccesso ma io vi vorrei far vedere la brillantezza che l'ha questo questo prodotto un'altra cosa perché potrebbe essere paragonato come azione un po' al allo smack in realtà rispetto allo smack non fa nessunissima puzza e nessunissimo cattivo odore allora io vi faccio vedere avvicino alla videocamera vi faccio vedere prima che io passi ad asciugarlo definitivamente quanto è splendente il lavandino sperando di non far rollare nulla ecco questo è il risultato del lavandino soltanto con una passata di quel prodotto lì adesso io procedo nell'asciugatura e vi faccio vedere poi il risultato finale ecco qua ragazze il lavello è praticamente super super lucido notate come è rimasto lucido con una sola passata di quel di quel prodotto ovviamente ci sono le righe dovute all'usura ma per il resto non presenta aloni è un prodotto davvero davvero eccezionale quindi io ve lo stra guardate ad esempio qua che è il punto in cui io il mio lavello ancora non l'ho asciugato completamente del tutto ma se io lo asciugassi completamente del tutto vedete questo è uno straccio asciutto guardate voi come rimane super super lucido e io ho notato un'altra cosa che utilizzando questo prodotto qua rimane a lungo molto molto più lucido naturalmente qua ci sono dei punti dove si deve ancora asciugare va asciugato molto bene l'acciaio perché altrimenti restano comunque gli aloni dell'acqua del calcare e così via ma vi volevo far vedere con che rapidità comunque sia si pulisce quindi è un prodotto che io vi straconsiglio ve l'ho voluto far vedere in funzione perché molto spesso si fanno vedere durante queste review di prodotti che vengono omaggiati i soli prodotti senza farli vedere in azione è un prodotto davvero davvero valido io vi ringrazio un bacio a tutte alla prossima grazie